Ciao ragazze, eccoci qua con un nuovo video Io sono lei, io sono la carica dolce della mia sorellina, Nancy Amara Siamo qua nel nostro secondo canale, second channel Mi raccomando ragazze, se non ancora non si iscritte, iscrivetevi Perché qua facciamo tanti video, non solo di ricette, di video proprio assieme io e Nancy Quello che facciamo, dove andiamo, gli acquisti che facciamo e facciamo Che combiniamo, siamo andate al suo mercato, come si chiama? Selex, e abbiamo trovato tanti prodotti bio Buoni, con buoni ingredienti, quindi me ne volevamo parlare Perché abbiamo fatto una bella spesa che ci ha molto soddisfatto Avete visto già il vlog al supermercato che abbiamo girato E ora vi mostriamo tutto quello che abbiamo comprato Tutto Piadina Avete visto l'entusiasmo mio della piadina In diretta appunto nel vlog, ho detto ragazzi Che bello finalmente A supermercato non si trovano mai piadine senza strutto e cose varie Senza olio di panna Questo è bello che sono poi piadine di farro Integrali Integrali con olio extravergine di oliva Perfetto Nessi guarda, facciamo anche senza lievito Deve parlare così Cioè ragazzi sono addirittura senza lievito Sono buonissime Queste due, una meura a te Una meura a te Io ci metterò dentro cosciutto crudo e friarelli Brava Io bresaura, mozzarella e salata Wow, bellissimi accoppiamenti Per l'integrale di canna che a me mi serviva Abbiamo visto questo qua dell'acce nero Che è biologico ed è integrale di canna Mi raccomando non utilizzate mai, mai categorico Lo zucchero bianco, quello classico bianco E anche lo zucchero di canna non integrale E come lo zucchero bianco ragazzi Prendetelo di canna integrale Perché praticamente è puro Non è raffinato Perché quello bianco è trattato Con procedimenti chimici Per renderlo così bianco Per sbiancarlo E fa molto molto male Oltre al fatto che fa ingrassare E' molto più sano e naturale Quindi zucchero di canna integrale Ho comprato la pasta bio Della Selex c'è proprio una linea bio E questa è fantastica Questi sono i fusilli integrali Perché i fusilli sono la nostra pasta vecerita Poi c'erano un sacco di tipi Poi c'erano tanti tipi Spaghetti, gattoni Potete spaziare Se come noi siete davanti della pasta Veramente ve la consigliamo Non è neanche molto cara E poi ho preso anche la salsa di pomodoro Anche questa è bio Ed è una bottiglina di salsa pronta di pomodoro Ciliegino Quindi troppo troppo bella Bio della marca Agromonte E quest'anno ho già provata E' veramente buonissima ragazzi Appunto sui fusilli o sulle pennette Adoro Poi scorpacciata di marmellata Allora questa qua praticamente già sta finendo Ho mangiato in un giorno E' buonissima Della marca Hero Che è light Senza zuccheri aggiunti Quindi queste qua ve le consigliamo Perché comunque non fanno ingrassare Sono senza zucchero E sono comunque buone Hanno un buon sapore Mi piace tantissimo Sono dolci Sono dolci Mi piace tantissimo mangiarle nello yogurt Ma anche spalmate sulla classica fetta biscottata Gusto mirtilli buona Ciliegia nera buonissima E fragole Che topo La più buona è fragole Però sono tutte buone Devo dire che sono tutte buone La tua preferita qual è? Fragola Ovviamente Comunque è tipo 10 calorie 9 calorie pochissimo Quindi ottime Poi questa ve la sta consiglio La tisana che ha preso Nensi Sempre della marca Selex Vivi bene Linea Tisana linea quindi proprio per il ventre piatto Con estratto di guaranà Qua c'è scritto proprio che stimola il metabolismo Contribuendo all'equilibrio del peso corporeo Ed è buonissima E' vero? Sì Questa l'abbiamo provata E' buonissima L'ho bevuta la sera Mi è piaciuta un sacco Io la bevo ogni pomeriggio E' proprio buona Sgonfiante E poi c'è questa Poi abbiamo preso anche questa qui Comunque gonfiore addominale Quindi proprio per la pancia gonfia Se volete avere la pancia gonfia E' semplicemente Con estratto di carciofo Carciofo E praticamente c'è scritto Per l'eliminazione dei gas intestinali Andia Per le pezzette Quindi ragazzi Queste qua ve le straconsigliamo Anche perché costano poco Pochissimo Voi sapete che sono amanti delle tisane Poi ce n'erano anche altre Rilassante e varie Sì Voi sapete che sono amanti delle tisane Detox Del tè verde Tutte queste cose drenanti Quindi veramente non potevamo Non comprarle Sono buone Poi le uova Le uova bio Proprio questa marca Selex Ha fatto questa linea bio Che è veramente ottima Le uova fresche Sono molto molto buone Biologiche E non è molto costosa Questa linea Quindi ottimo Sì Oltre la pasta Selex bio C'era anche il riso Un sacco di tipi di riso Scusate Bio della Selex Sì è vero Abbasmati Quindi convenienti Molto molto convenienti Poi abbiamo preso questa qua Anche un'altra passata Perché Nancy Io avevo preso quella Prendi anche questa Questa è sempre una passata Sì per fare un confronto Datterini bio 100% pomodoro biologico Quindi non vedo la di mangiarla Poi abbiamo preso questi qua Che sono di succhi Di agricoltura biologica 100% succo bio Arancia Arancia, carota e limone Ragazzi sono ottimi Per l'abbronzatura Sono ricchi di vitamine Sono senza zucchero aggiunti Mi raccomando Comprate sempre Succhi di frutta Senza zucchero aggiunti E sono ottimi Per darmi energia La mattina Sarà a scuola Lavoro Ma anche il pomeriggio Se vi allenate Prima dell'allenamento Questi poi Per stimolare la tintarella Sì E diventare Nere nere come Nancy Super abbronzate Ragazze Quindi questo è tutto Dobbiamo andare di nuovo In missione Per la Selex Perché come avete visto Nel vlog Noi abbiamo trovato I cosmetici Eh, diteci Quali sul mercato Vendono i cosmetici Della Selex Bio però Perché sappiamo Che c'è Questa nuova linea Bio di prodotti Selex E noi la vogliamo comprare La vogliamo provare Assolutamente Quando sono andata Nel vlog Avete visto Nel suo mercato Gli unici cosmetici Che ho trovato Non avevano buoni Che non erano Quelli biorgi Non erano ovvio Quindi sono rimasta malissimo E assolutamente Vogliamo ritornare Diteci Napoli Provincia Dove possiamo andare Per trovare Questi prodotti Selex Ci saremo Ci saremo E ci andremo per voi Fate sapere nei commenti Se avete provato Questi prodotti Consigliateci anche Altri supermercati In cui andare Sì Andiamo con Puppet E la portiamo No Tu non puoi entrare Mi raccomando Mettete tanti pollici su Se vi piacciono Questi video Sui prodotti Da supermercato Vi mandiamo tanti baci Ciao 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 Ciao